12 settembre 2015 Siamo alla tenuta di zio Peppino in questa splendida cornice catanese con Fabio Cottone Fabio Cottone che è il signore che vedete alla mia destra, è il responsabile commerciale di Zerica Buongiorno, bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di Benintv.it Un VIP adesso, buongiorno a tutti Sì, sei un VIP, sei diventato un VIP E allora Fabio, in attesa di reincontrarci a Host 2015 Dove voi peraltro esporrete, e ora poi fra poco diciamo anche dove, in quale hall, in quale stand Perché sei qui a Catania in questa manifestazione? Sono qui in una splendida cornice per supportare gli amici della Compagnia del Vending Che espongono i nostri refrigeratori non solo d'acqua ma come ben sai anche adesso di Bevilacosì 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 by Zerica Con la futura Juiz che eroga dei succhi buonissimi che tu hai provato e sai benissimo Concentrati fatti in Italia, con altissima qualità e stanno avendo un grande successo E allora, intanto noi, io ho avuto modo di assaggiarli a Milano nel corso dell'intervista, anzi poco prima dell'intervista realizzata proprio a Venditalia 2015 La special edition di maggio Ho avuto modo di riassaggiarlo oggi con un altro gusto che non avevo ancora assaggiato Bandarino Facciamo un riepilogo intanto di quali sono i gusti disponibili per Bevilacosì Oggi già disponibili abbiamo Ace, Arancia Rossa, Taroc, quindi il classico, Arancia Bionda Poi abbiamo Mela, Ace, l'avevo già detto Ace scusa ma il Sole fa il suo corso Il Sole Catanese Catanese e Mandarino che hai avuto modo oggi di assaggiarli che è una gran novità E tra l'altro abbiamo delle novità che saranno proprio in corso d'opera A fine dell'anno ci saranno altri 3-4 gusti nuovi che muoveranno i palati di parecchi nostri clienti a fare nuovi ordini Noi non aspettiamo altro che poterli assaggiare naturalmente Certo, certo Sempre per garantire e tutelare tutti voi L'amero come al solito per garantire la freschezza dei nostri succhi a tutti i nostri clienti Sarà un piacere, ma avremo modo anche, come dicevo prima, di rincontrarci nel corso di Host 2015 In quale padiglione, in quale stand? Padiglione 24, stand M12 Invito tutti, tutti coloro i quali vogliono venireci a trovare A entrare nel nostro sito e a fare la richiesta dei biglietti Clienti e non Vi aspettiamo tutti perché avremo delle novità assolute nel mercato Non solo della rifrigiazione dell'acqua che ci contraddistingue da 85 anni come Zerica Ma proprio con la nuova sinergia con Bevilacosì Per dare una smossa a quello che è il mercato dei succhi e non Vi aspettiamo numerosi perché abbiamo da mostrarvi veramente delle novità grandiose Beh tu prima mi hai messo una pulce nell'orecchio e ho detto vedrai cosa presentiamo a Host Non posso ancora dirti nulla perché è top secret Ma posso garantirti che rimarrai a bocca aperta Fabio, io davvero non attendo altro che venire lì e riprenderlo con telecamera Ascoltare o meglio divulgare attraverso questo microfono gli amici di Venne in TV Tutto ciò che sarà questa strepitosa novità presentata a Host 2015 tra il 23 e il 27 ottobre Ormai manca poco, un mese Per noi che andiamo incontro alle date è domani Domani, bravo, sì, esatto E allora io nel frattempo ti lascio andare da tutte le persone che desiderano parlare con te Presso il mini stand allestito proprio per Zerica e per Bevilacosì Ti lascio il microfono per 5 secondi affinché tu possa salutare gli amici di Venne in TV e Venne in News.it Saluto tutti ed è sempre un gran piacere incontrare Fabio e tutti gli appassionati e tutti i clienti che riusciamo a trovare nelle nostre manifestazioni piccole, grandi, medie Che possono essere che sono sempre gentili, premurosi e vogliosi di novità e noi ci saremo sempre Bene, e tu sarai sempre naturalmente graditissimo per poter divulgare attraverso questi microfoni e quella telecamera ciò che desiderate comunicare agli amici di Venne in TV, Venne in News.it e naturalmente Venne in Newsletter.it La newsletter di settore che è spedita ogni settimana a oltre 55.000 persone in tutto il mondo Ciao Fabio, ci rivediamo a Host Amici, noi nel frattempo continuiamo, abbiamo ancora un po' di cose da dirvi e da presentarvi Oltre naturalmente a farvi godere questa location che, credetemi, è davvero bellissima